Ebbene sì cari amici del TG Beach, qui da Milano Marittima al VIP Master 2021 in compagnia di bellissime donne, con noi ovviamente Giusy Rizzo Ciao a tutti! Anita Fissore, campionessa di tennis oggi VIP Master 2021, qual è la tua terza, quarta edizione? La mia terza edizione, sono molto contenta di essere qua Ebbene sì, siamo qua con il famosissimo DJ Inviato delle Iene che questa sera ha litigato col parrucchiere DJ Michela Buonasera, buonasera a tutti, ciao, tu invece non hai litigato No, è il tuo primo anno o mi sbaglio? È il mio primo anno, sì, 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 onorato dell'invito quindi sono corso, ma perché? Perché ero in compagnia infatti ho portato con me una star, una guest, il grande Lollo G e quindi ho detto vado e gli faccio compagnia Ciao a tutti Lui è in erba, capito? Ciao, cazzione! E siamo qui con Federico Gatti Non si scherza più Corrispondente da Londra L'unico corrispondente che non conosce l'inglese It's true, it's true, I don't speak English Grande Federico, noi ti seguiamo sempre al telegiornale Sei un grandissimo corrispondente Adesso abbiamo un po' scherzato per il TG Evans Com'è la vita a Londra? Com'è questa uscita dall'Europa? Guarda, diciamo che si sta ancora bene ma non si sta bene come in Romagna Che io ci vivo da 12 anni e sono ancora innamorato profondamente della città Che offre tantissimo e un invito a tutti i giovani che stanno pensando di venire a Londra A imparare l'inglese e cercare un lavoro Fatelo, non fatevi spaventare della Brexit Ancora una città che offre tantissimo a livello professionale e a livello umano Di certo però essere qua per me è un grande privilegio Perché mi riporta indietro nel tempo Avendo fatto tante estati sulla riviera romagnola quando ero ragazzo E qui con noi, VIP Master 2021, trentesima edizione Abbiamo la bellissima, frizzante, piena di energia Drusilla Gucci, ciao Drusilla Ciao, è un piacere essere qua Sono molto contenta È il primo anno che vieni? Sì, sì, è il primo anno Infatti ero molto curiosa di vedere di che si trattasse Qui comodi, seduti VIP Master 2021 con? Rosalinda Ah, Rosalinda Perché tu cambi un po' il nome come lo cambio io Perciò abbiamo questa cosa, questa particolarità Stavolta è definitivo per me È definitivo Perfetto Allora, primo anno del VIP Master A parte che di fianco, bello abbronzato Peggio di me E non suona la batteria questa sera No, stasera no, purtroppo Purtroppo perché Ho messo su una cremina Una cremina auto-abbronzante Comunque, Rosalinda Com'è questo VIP Master? Ti abbiamo visto ieri sera giocare Te la cavi, insomma C'è anche di peggio Ma è che sei di parte Io sono l'antisport fatta a persona Però mi hai detto che comincerai a giocare a tennis Perché è una cosa che ti piace È importante impegnarsi e provarci Allora vi lasciamo andare Perché vi stanno chiamando C'è il biondo che vi chiama Perciò in campo Lui o non è lui? La voce ufficiale del VIP Master 2021 E non solo Jack Buonora E non è buonaventura ovviamente Allora Jack Ma hai detto Io potrei farlo anche Senza il microfono Sì, adesso poi sono Nella trentesima edizione anch'io Per cui non so per quanto possa reggere Però ci mi è da tutta la passione Mi sono un po' scolato Ma per questo pubblico Per questo ritorno alla vita Non potevo fare altrimenti E allora Visto che nessuno lo fa Io faccio i complimenti a Jack Perché è stato Come al solito Non eccellente di più Grazie Grazie sempre Dio te ne renda merito Grazie a tutti Grazie a tutti